Musica Ciao serine fantastiche Faccio questa stories dal cesso di un treno Così avrete qualcosa di cui parlare nei prossimi giorni Sono due giorni che vengo tassato di roba per essere caduto Mentre facevo uno stage diving E oggi leggo anche sulla Repubblica un articolo su una stronzata del genere Ma dico in Italia con tutti i problemi e i cazzi che abbiamo La Repubblica non ha nient'altro di meglio da parlare di un artista che inciampa e cade Ragazzi, un cazzo Avete proprio un cazzo da fare nella vita A me fa morire dalle risate Per me non è assolutamente un problema Anzi È una cosa comica su cui ci rido anche sopra Sono inciampato E poi a tutti i ragazzetti che commentano sotto Non è che se uno inciampa deve essere per forza drogato di chissà che cosa Potete farmi di analisi Sono lucidissimo Sono un padre di famiglia non mi drogo di un cazzo Quindi sterline Ma soprattutto la cosa che mi fa Mi fa veramente scioccare È la Repubblica C'è un giornale di informazione nazionale Che parla di queste stronzate ели Sc 그래 Bebtill Che parla di sia Che parla di essere Che parla di essere